Un anno fa veniva inaugurato a Villa Lempa di Civitella del Tronto il nuovo nido per l'infanzia comunale. L'opera del costo complessivo di 745 mila euro, di cui 370 mila euro di contributo regionale e 375 mila con fondi di bilancio propri, nel corso dell'anno è stata implementata con la realizzazione di una moderna e attrezzatissima cucina, che consente la preparazione di pasti non solo per i piccolissimi fruitori della struttura, ma anche per gli altri alunni dei plessi vicini. Una scommessa sicuramente vinta, perché pur nella diffidenza iniziale di tanti abbiamo potuto constatare che grazie al grande lavoro dell'equip della cooperativa Leonardo, coordinata dall'operatrice Maria Forlini, oggi questo nido costituisce un'autentica eccellenza della provincia di Teramo, tanto da essere preso ad esempio da molti esperti. Proprio per festeggiare questo primo anniversario, la cooperativa Leonardo e l'amministrazione comunale organizzano un evento per sabato prossimo, il 19 dicembre verrà infatti allestito un suggestivo presepe vivente proprio con i piccolissimi bambini del nido, che nel contempo metteranno in atto varie attività didattiche preparate in questi mesi di frequenza.